ciao bella raga benvenuti in questo nuovo video da ciro allora dietro c'è scritto qualcosa si spiegare cosa significa la scritta dietro no guarda l'anno scorso è stato a chile laura a presentare i suoi vestiti moderni classici no tu sei una fashion blogger non chiara non so cosa cosa volesse significare questi vestiti che tu stai portando a sanremo ma è un saremo che stanno cantando non è una sfilata di moda e senza reggisina diamo bene ma ma è ragazzi che dire a chiaro ferragni contendo fede scontenti tutti no ognuno è libero di fare quello che vuole è una fashion blogger può mettersi qualsiasi vestito ora si è presentato così niente di ma una canzone nuovo che ha fatto blanco no eh cosa non senti ma che faccio a fare il viovero blanco se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e scrivete un commento sotto questo video qua noi ci vediamo al prossimo video da ciro mancino è tutto ciao bella raga ciao ciao Grazie a tutti.